Ogni tanto ci vuole una direttina, così una direttella. Allora, vi voglio parlare di un enorme problema che è in corso, cioè in sostanza lo storytelling diffuso in questo momento nel mondo cripto. Cos'è il mondo cripto? Il mondo cripto oggi parte dalla base un po' di tutto, cioè dalla base della blockchain, con i suoi sviluppi che ha avuto in questi 14 anni. Sono passati 14 anni da quando Satoshi Nakamoto ha scritto quel white paper di 9 pagine che oggi è alla base di tutto quel mondo. Quindi intorno all'utilizzo potenziale della blockchain, al di là di quello che sono i bitcoin, sono nate mille strade, mille versioni. Mille nuove blockchain, nuove cripto, eccetera. Nel frattempo è nata molta speculazione all'intorno e nel frattempo, per farla breve, lo sboom di questo mondo è evidente a tutti. Lo sboom è oggettivo dal punto di vista del fatto che la blockchain dopo 14 anni ancora sta cercando una strada che la renda, come dire, adatta a quel che ha promesso, ovvero rendere, come dire, certificati in modo assoluto e senza un intermediario i dati inseriti, cosa che invece non è avvenuta. Perché? Perché sappiamo bene che in realtà, perché i dati siano coerenti, bisogna anche verificare che siano corretti quelli che vengono inseriti e purtroppo questo non è stato possibile, come dire, qualsiasi device oggi può essere hackerabile, può essere cambiato, può essere alterato e quindi quello che viene scritto non solo è scritto sbagliato, ma per di più inalterabile, quindi ancor peggio. Oggi sappiamo tutti che se qualcuno sbaglia il nostro cognome, all'anagrafe, possiamo andare e dire, signori, state sbagliando a mettere il nome, dovete cambiarlo, se quella fosse la blockchain non sapresti a chi dirlo. Grazie, solo un saluto per far vedere che sono davvero in diretta, quindi Gabriella Tiozzo Grande, Sara Divertente, Wow Live, Sean, penso che vi sia una fine, adesso arriviamo, non parliamo di comprare che è un altro film, Elisabetta Fontana, siete tutti qua. Allora, dicevamo, poi rispondo alle domande, incominciate a grazie, grazie dei vostri complimenti, però volevo in diretta, in modo, grazie Luca Iachini, grazie Nathalie Gaeta. Allora, in modo molto, smetto di leggere, ora sennò mi deconcentro, poi dopo preparatevi per le domande, state qua e me le fate dopo. Allora, il punto è che ad oggi la blockchain non ha ancora dimostrato di essere davvero utile, c'è stato un periodo in cui i vari venditori, gente del marketing, gente che non c'entra nulla con la tecnologia, diceva a quelli della tecnologia cosa verrebbero dovuto adottare, ricordiamoci che stiamo parlando di un mondo molto tecnologico, io ho avuto aziende nel settore digitale, con CTO, con quindi capi della tecnologia, eccetera, e mai avrei osato, potevo dare un suggerimentino, dire a loro quale tecnologia utilizzare, quale database usare, che ne so, NoSQL, o usare, che ne so, Microsoft SQL Server, usare MySQL, cioè lo suggerivo, ok? Ma non avevo il coraggio, come dire, di, pur essendo un programmatore, di andare a spiegare a loro che cosa avrebbero dovuto fare, e oggi un mucchio di persone che lavorano nel mondo del marketing, invece spiegano quale tecnologia bisogna usare, perché è una tecnologia di moda. Una volta la tecnologia non era di moda, e quindi questi personaggi non c'erano, adesso sono arrivati e stanno facendo gli danni enormi. Quindi ad oggi, poi voglio arrivare al dunque, come nel titolo, ad oggi quella tecnologia non ha ancora dimostrato di essere utile, nessun campo, o perlomeno di essere indispensabile, tant'è che si confondono, non conoscendo la maggior parte di quelli che ne parlano, cosa sia un database relazionale, confondono quello che si può fare, quindi per esempio, lo sai che adesso, grazie alla blockchain, puoi comprare i biglietti e poi rivenderli? E' anche prima, cioè non è che, no? Però adesso non c'è un intermediario, e magari è pure peggio, perché con l'intermediario magari riuscivo anche a gestire eventuali errori, senza intermediario gli errori della tecnologia vengono lasciati, quindi la tecnologia diventa padrona, se dovesse mai essere adottata, per come si sperano gli entusiasti, sarebbe pure un grande problema. Bene, poi c'è, sopra la blockchain ci sono altri mondi, c'è appunto quello degli NFT, che inizialmente è stato prevalentemente, come dire, si è gonfiato nel mondo dell'arte, di questa arte digitale, che poi oggi de facto, cioè non perché lo dice MCC, di fatto ha avuto un crollo del 99% negli ultimi 12 mesi, ok? E quindi non c'è più nessuno, ma non è che non c'è più nessuno, perché non ci sarà più nessuno. Anche nel mondo delle figurine, non è che non c'è nessuno, anche i cavalli vengono usati come mezzi di trasporto, ma non sono mainstream, ok? Non sono, come dire, un mezzo, che è come viene raccontato, cioè che quello sostituirà tutto. No, assolutamente no, è stato un mezzo speculativo, che ha fatto circolare una marea di soldi, nelle mani sbagliate, e le ha portate via ai poveri ragazzi, gli artisti che avrebbero voluto trovare nel mondo degli NFT, uno sviluppo, potenzialità per la loro arte, purtroppo ad oggi, hanno trovato solamente danni, ok? Però questo terreno bruciato, uno può dire, ma non è detto che domani, nella bruciata degli NFT, si trovino delle soluzioni, tant'è che i vari fuffa guru, hanno anche rovesciato il tavolo, dicendo, ah, ma non è solo roba artistica, dopo aver venduto roba artistica, ma è anche come un biglietto, perché tu compri questo biglietto, e con quello hai accesso a tutti i miei corsi. Anche lì, chi se ne farei i tuoi corsi? Voglio dire, non è che per caso i tuoi corsi poi mi rispieghi di nuovo come funziona gli NFT, no, perché altrimenti diventa un loop, e queste cose si potevano fare anche prima. Dici, ma adesso il biglietto lo posso rivendere, pure prima, si ma ci posso guadagnare, ah, ma allora vogliamo fare speculazione, non è che stiamo più parlando di tecnologia, capite qual è il problema. Sì, qui sono un po', grazie Maria Luna Campo, spiego, grazie, come fare tutto, adesso questo è un video un po' più tecnico, è un po' più, che entra un pochino più nei dettagli di alcuni temi, a differenza di, come dire, di altri mezzi che invece hanno altri scopi. Bene, e qui invece ho il tempo che voglio e anche il pubblico che può essere interessato, chi non è interessato se ne va, chi è interessato a capirne di più il senso tecnico, sta qua. Grazie Lorenzo Toracchi, ho 25 anni e rimango aggiornato, grazie mille. Allora, poi ci sono altri livelli, no? C'è il mondo cripto, sempre collegato al mondo della blockchain, perché la base è sempre quella, dove lì invece attualmente Bitcoin avrebbe dovuto essere riserva di valore, avrebbe dovuto essere la moneta forse alternativa a quella fiat, quella che circola, ad oggi magari lo sarà, ad oggi non lo è, ok? Perché non ha dimostrato di essere una riserva di valore, in momenti di difficoltà, magari lo dimostrerà in futuro, e soprattutto è stata inquinata da un mondo schifoso, cioè tutto quello che è nato dopo, il 99.9% dico io di quel che è nato dopo è prevalentemente stato fatto di truffe, che ha sfruttato, e lì c'è concentrato il peggio, che ha sfruttato il mondo, soprattutto la ludopatia latente che ha molte persone, io sapete mi fermo sempre nel mio campo di competenza, guardo fuori dalla finestra quando non è più il mio, giusto per creare una connessione, ma poi non mi azzardo, ma molti psicologi dicono appunto che che è un momento difficile, perché quella tendenza oggi è alimentata, come dire uno ha una tendenza a drogarsi, alle dipendenze, e a un certo punto vive in un mondo dove ci sono droghe di ogni tipo che gli passano dappertutto, io che non ho quella tendenza non l'ho mai avuta neanche quando ero ragazzino, mi puoi far passare tutte le droghe del mondo a fianco, non le vedo, non le guardo, non mi interessa anche se sono nel posto delle droghe, mentre quello che tende a essere dipendente, anche se si può ottenere, non c'è niente da fare, come quello che smette di fumare dove gli fumo intorno, cioè non c'è niente da fare, e quindi oggi quel mondo lì ha preso quella piega, e oggi al posto di dover andare al casino, di dover andare a comprare 100.000 grattevinci, che peraltro sono regolamentati, nel bene, nel male, ma almeno lo sono, di andare a comprare, cioè non può scappare quello dei grattevinci, non so come dire, mentre qui possono scappare facilmente, invece di andare alla macchinetta, di spalle un po' nascosto, a sfogare la propria ludopatia, lo fa con dei click, ma non solo, lo fa anche con il cappello dell'investitore, cioè non è più un povero ludopatico che compra una cripto a uno sperando che vada a 100, e poi di nuovo crolla in due ore a zero, e poi di nuovo risale a 20, ma è un investitore, e quindi anche nei confronti della famiglia, ho fatto un investimento sbagliato, non ho buttato via i soldi giocando al casino, e quindi c'è stata questa cover, e per di più, attraverso le cripto hanno anche avuto accesso a questo mondo anche i minorenni, perché andate a vedere, andate a vedere in giro, andate a cercare, cercate il gabbrone, andate a cercare, è un ragazzo molto giovane che sostanzialmente dice di non promuovere la ludopatia, ma tutta la sua vita, tutto il suo atteggiamento, tutti i giochi che fa online sono dedicati alla promozione della ludopatia, cioè alla promozione di altri, dice lui stesso di essere ludopatico, e guadagna sugli altri il suo lavoro, su i reward che ha da nuovi che entrano, quindi da sistemi di affiliazione eccetera, e quindi andate a vederlo online, è agghiacciante, è agghiacciante perché? perché evidentemente, mamma mi compri delle cripto così anche io investo in un modo moderno, se sei una boomer non capisci niente, nonna gliele danno e ci vanno a giocare casinò, ok questo è un po' il problema, allora siamo arrivati qui, a un certo punto ci sono il quarto elemento, quattro pilastro, quindi ricapitolando blockchain alla base, nft sia artistici sia, come dire tecnologici come record, che anche lì siamo ancora fermi al nulla, cripto, mega, giga truffe, e poi è arrivato all'ultimo giro, che non ha veramente niente a che fare con tutto ciò, e sono i venditori del metaverso, in realtà questi sono o esperti che avevano bisogno di trovare una nuova strada, su cui essere esperti, oppure sono agenzie che povere, io le capisco, sono in un momento complicato, io sono dalla loro parte, oggi non ho più alcuna azienda, e non ho più alcuna azienda anche per poter parlare liberamente di queste cose, senza che come vedete venga attacciato di essere connesso a qualche strano interesse, anzi il mio più grande interesse è di non essere connesso a nessun interesse, di aiutare solamente le persone, e questo cerco di mantenerlo e mi costa anche tanti soldi, perché immaginate quanti soldi potrei guadagnare se mettessi sul campo, se mettessi le cornine qua e mi mettessi a lavorare tra i cattivi e non tra i buoni, per cui veramente è molto più facile quello che si pensi, avendo le mie competenze comportarsi male, altro che prendere i soldi da uno sponsor piuttosto che da un altro, c'è molto di più, e quindi oggi essendo libero, ma avendo pur vissuto un passato di 35 anni in questo settore, vi posso dire che in realtà è successo che molte agenzie che fanno molto bene il loro lavoro si sono trovate senza lavoro. Si sono trovate, grazie MaxAle64 per Quanta Verità, grazie Francesco Guglielmino con Metaverso Anche in istruzione, adesso ne parliamo, e quindi cosa è successo? Che cosa hanno fatto? Sostanzialmente hanno incominciato a, hanno incominciato, no ma poi parliamo anche dei notaie, degli intermediari, perché qui c'è un tema importante, ricordiamoci che il notaio non è solamente uno che mette un timbra, il notaio è uno che verifica, che perlomeno i dati inseriti e la correttezza dei dati inseriti ci sia, la correttezza, poi uno può falsificare dei documenti, ma perlomeno verifica che ci sia, invece la registra e basta qualunque roba gli dia, però andiamo avanti anche, completiamo questo tema, quindi queste agenzie hanno detto, vabbè ma io qua i siti non riesco più a venderli, ok, i siti non riesco più a venderli, non rispondo che sono con voi, i siti non riesco più a venderli e quindi che faccio? è partita sta storia del metaverso, creata da Meta, che ha incominciato a promuovere il prodotto, che Zuckerberg, quindi qui saliamo, 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 per una serie di ragioni a cui crede, ma perlomeno lì c'è solidità, e per quanto sia nei problemi, e perlomeno l'impianto sia serio, cioè non cercano di vendere fuffa. attaccato a questo, che nel frattempo non ce la sta facendo, per una serie di ragioni, ne parleremo magari in un altro video, sono incominciati ad arrivare i venditori, i metaverso vendoli, e questi qui hanno, non solo vendono sta roba, ma non gli basta, hanno deciso perfino che il loro mondo ha a che fare con la blockchain, con le cripte, con gli NFT, che non è assolutamente vero, de facto, non è vero, potenzialmente, ma non è vero, non è proprio vero, quindi quando si mettono insieme a quel mondo lì, è falso, non sono mondi che si parlano, è acqua e olio, pensate che quando vi raccontano che nel metaverso, che non esiste, ognuno di noi può avere l'NFT, che poi si può spostare il vestito della moda che compra, andate su The Central Land, che è in teoria quella più vicina al concetto di metaverso aperto, e gli NFT non potete, non potete, i noiettai non fanno solo certificazione di documenti, perché se io vado a comprare vendita, a fare una compra vendita di una casa, fanno un passaggio di più che registrare i documenti, ma anyway, lasciamo stare questa, cioè continuiamo con il discorso, The Central Land non permette il trasferimento degli NFT, cioè è fashionable, è come dire, è fancy, come si dice in inglese, cioè è qualcosa di carino, divertente, cool, no, simpatico, ma, attrattivo, ma, ma non c'è, quindi, tornando indietro, mettendo insieme questo mondo fatto di quattro, di quattro elementi, c'è, il metaverso, che non esiste, non esiste proprio, cioè, andate a vedere i miei video, non esiste, la blockchain che non ha dimostrato ad oggi un'utilità, e viene venduta dai marketer, e non dai tecnologi, io non ho ancora conosciuto un CTO, che dice, io ho dismesso i database, e oggi utilizzo solamente cose basate sulla blockchain e gli smart contract, non ho ancora conosciuto, il mondo degli NFT, che ha dimostrato di essere prevalentemente un grandissimo fake, e il metaverso che fa finta di avere a fare con questo mondo, e le crypto nel frattempo ha portato via soldi a tutti, e si sospetta, perché il sospetto è più che lecito, che sia un grande mondo, che contenga il più grande ponzi mai creato, quindi uno schema in cui praticamente, ognuno alimenta l'altro, si sostenga una vicenda in questo momento, ci sono balene, c'è gente che ha, come dire, grandi quantità di una certa crypto, e quindi è in grado di muovere il mercato, c'è chi riesce a falsificare, come dire, non tanto le transazioni perché sono visibili, ma chi c'è dietro, e quindi in questo momento è il pericolo dei pericoli, e non è il beer market, cioè non è un mercato calmo, addormentato, in calo, che poi riprenderà, ne avrà una parte che riprende, come tutte le speculazioni, ma la sostanza ad oggi non c'è, ci sarà, ecco, quando vi dicono ci sarà, tutto è possibile, però, allora io vi dico, ci saranno le case sulla luna, perché non ditemi che non sarà possibile, le stanno per costruire, ecco, ci saranno delle, qualche immobile sulla luna, e perché non investire in quello, ma voi oggi non mi dareste un euro, su un disegno sulla carta, di un mio quartiere, che costruirò luna 2, per citare Milano 2, a sulla luna, perché è troppo lontano, ok, quindi, però lì lo vedi con i tuoi occhi, perché ne hai le competenze, è un mondo che riesci più o meno a riconoscere, ecco, qui vi dicono che è domani, ma in realtà domani non c'è, vedo il ponte sullo stretto, e vedo quali sono oggi i principali problemi, e qual è l'agenda politica, io vedo solo digitale, non riesco a vedere altro, anzi, quando guardo certi temi dico, ma come mai non si parla di digitale tutti i giorni, perché è lì la base della crescita di un'azienda, vedete l'absus che però non è sbagliato, di una Stato, di una società, dal punto di vista culturale, e da altri punti di vista, come mai non avviene? e non avviene perché in generale, destra, sinistra, centro, avanti e indietro, fanno fatica a comprenderne le complessità, per una questione culturale, per una questione anagrafica, e anche perché in fondo il digitale rende tutto molto diretto, molto trasparente. Io in un paese qua, che mi permette di essere libero, di non avere inciucci, di essere, come dire, di vedere l'Italia più da lontano, anche se a un'ora e mezzo di distanza, e soprattutto di poterla aiutare da qua, senza alcuna, come dire, coinvolgimento, senza nessuno che mi tiri, giacchette, eccetera. Lo faccio come posso, è la mia missione da tanti anni, e lo voglio fare. Qui ovviamente, su internet, parlo di cose un po' più complesse. Quindi, che cosa, che cosa vi stanno raccontando, in questo momento, in cui tutto ciò, fa fatica a decollare? Io ritengo perché manca la sostanza, ok? Massimo Varini, ti dico solo grazie, da artista, grazie a te non ho investito, in effetti bene. Mi ha fatto piacere, di aver salvato qualcuno. Ogni volta che salvo qualcuno, per me, è un pezzo di vita. E l'energia per altri dieci anni, di tutto ciò. Grazie, grazie Massimo. E quindi, sostanzialmente, succede, che adesso vi raccontano questo, e il video è basato su questo. Cioè, vi raccontano che, questa roba, tranquilli, è già successa. Oggi uno, mi viene in mente, perché oggi uno mi ha scritto così, dice, ma anche quelli del 90, 93, fino al 2000, dicevano così. E poi dopo, guarda invece internet, eh? Come è andata bene. Solo che si è perso un pezzo, essendo molto giovane, e studiando poco, della storia non solo della rete, ma anche di quello a cui ti riferisci, io c'ero. Cioè, io ero proprio lì. ero lì perché ho avuto la fortuna di iniziare presto, perché sono stato, come dire, un pioniere, perché ero pieno di passione in questo mondo, ho iniziato a programmareci, delle primi collegamenti a internet, facevo nel 90, 89, con le accopatorie autugustici, insomma, come dire, e lavoravo, mi pagavano quando ancora non esisteva il web, perché non c'era ancora, non era ancora uscito il World Wide Web, no? dal 92, prima del 92 non c'era, Tim Berners lì, l'ha inventato lì. E sostanzialmente i primi siti, le prime idee abbiamo costruito, io ho costruito la prima, il social netto, la prima moneta virtuale, poi a un certo punto ho cominciato a imprendere, ho venduto delle cose che mi hanno fatto fare un po' di soldini, e li ho reinvestiti, e quando li ho reinvestiti era proprio il 2000, 2001, e in quegli anni c'era lo sboom, cioè cos'era successo? che degli speculatori che io odio, in generale non è un mondo che conosco, che adoro, hanno, anche se è più che lecito speculare, ci mancherebbe altro, ma a me non piacciono, non mi piacciono nemmeno troppo quelli che lo fanno, però, a casa mia, se poi lo fanno in altri settori, mi sono simpaticissimi, cioè fatti loro, se lo fanno a casa mia, cioè nel mondo digitale, non mi piace. Cosa succede? Che questi, 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 allora, nel 2001, io ho perso il mucchio di soldi, anzi, mi sono trovato anche in grande difficoltà, pensate che, pensate che, avevo lanciato una radio, la prima radio on demand, con programmi, si chiamava radio310.com, andatela a cercare, audio rete, altri progetti che non hanno avuto successo, perché durante quei quattro anni, quattro anni, sono duri per un'impresa andare avanti, nessuno voleva più sentire, parlare di digitale, io dicevo guardate che i numeri ci sono, guardate che la sostanza c'è, guardate che gli utenti stanno crescendo, guardate che qui il mondo esiste, è vero, c'è la gente dentro, venite a vedere, e non ci venivano, perché dicevano abbiamo già perso abbastanza soldi con Tiscali, che se lo ricorda, aveva avuto un crollo, dopo essere cresciuto con una bolla di sopravvalutazione. Perfetto, cosa è successo? Che nel frattempo, poi finalmente nel 2004, le cose sono riprese, qualcuno è venuto a guardare, ha detto, ma lascio gli utenti veramente, e qualcuno l'ha anche chiamato web 2.0, che ha detto, ma questa è roba nuova, incredibile, ha cambiato anche faccia, wow, si chiama così, e questa storia che vi sto raccontando, 10 anni fa, 15 anni fa, era interessante per tutti. Oggi invece, hai pieno di esperti che dicono di conoscerla senza conoscerla, quindi io c'ero, e vi posso dire, che è tutto molto diverso, molto molto diverso da allora, perché allora c'era la sostanza. Oggi se io vado a vedere dentro il metaverso, non è beer market, è che proprio non ci va nessuno, e non c'è questo metaverso, cioè se vado a vedere dentro una delle realtà virtuali esistenti, anche quelle più blasonate, non c'è nessuno, e nessuno lo può negare, sono vuote, sono inutilizzate, per una serie di ragioni tecniche, che vi posso anche spiegare, ma sono di fatto vuote. Quindi che fanno questi venditori? Che cosa fanno? Che devono vendere sta roba? Dicono che questa bottiglia è oro, è un lingotto d'oro, per cui se io ti dico che è un lingotto d'oro, come va l'oro? Loro come va? E va bene, l'oro insomma ha un valore, e vedi che l'oro ha, sì ma non è un lingotto d'oro, cioè non è il metaverso, ti dicono che c'è un'economia enorme, ma si riferiscono ai videogame, che è un altro film, non è quello che fanno loro, perché se, fate questo esempio, quando vi voglio vendere una di queste robacce, gli dite, ah ok, quindi è un po' come dire, i numeri quali sono? Se loro vi citano i videogame, digli ok, adesso mi fai lo stesso roba, che vedo dentro la grafica super cool, dei vari videogame di oggi, me la voglio vedere così, non quattro cose quadrate, e non sono in grado, perché non sanno nemmeno cosa stanno vendendo. quindi lo storytelling, eccolo qua, benissimo, è arrivato Thomas Montes, iniziamo già con le domande, stai mischiando cripto metaverso NFT, sono cose ben distingue, io ti ringrazio Thomas, ma fatti vedere chi sei, io sono straordinariamente curioso, allora Thomas Montes, non si vede chi è, pubblica le scimmie, pubblica, poi vi condivido lo schermo, pubblica su per qui, su per là, insomma diciamo che a occhio, non è un esperto di questo mondo, o perlomeno non è all'interno delle sue, dei suoi primari interessi, ha fatto la scuola media, e ha frequentato l'ipsia. Bene carissimo Thomas, devi sapere innanzitutto, che fino adesso ho proprio spiegato, che c'è una grandissima differenza, tra quei mondi, e che quel mischiume, è proprio sbagliato, e quindi, il fatto che tu spieghi a me, che non sono la stessa cosa, io ti ringrazio tantissimo, ma è cosa nota, e ti consiglio anche, di continuare a studiare, approfondire questo mondo, perché il grande problema, è proprio questo, cioè nello storytelling, è quello che stavo spiegando, purtroppo sei arrivato solo adesso, e non lo sapevi, nello storytelling, che tirano fuori, è proprio che cripto, metaverso, in effetti, fanno parte di un mondo simile, in realtà non lo è, quindi ti ringrazio di averlo chiarito, continua a studiare, perché è un mondo molto interessante, e utile. Ora, per cui, cosa accade? Che in questo momento, siamo arrivati un po' alla resa dei conti, cioè, i numeri di persone da raggiungere, ho fatto due calcoli, nel mondo, perché il tema è mondiale, non è locale, è ancora enorme, ci sono circa un miliardo di persone, ecco, dicono che Forna sia metaverso, ora incomincio a interagire con voi, Antonino, purtroppo, capisci, anche tu hai fatto il verso disperato, con la faccia disperata, sì, purtroppo dicono così, perché? Perché? Perché così te lo possono vendere, perché i numeri veri, degli scusami, ma invece su The Central Land, mi puoi spiegare quanti numeri ci sono, per favore, e vedrai che, non c'è nessuno, cioè, loro ti diranno, non c'è nessuno, se non c'è nessuno, smettetela, per favore, torniamo quando c'è qualcuno, ma devo investire, sì, allora preferisco investire, se proprio devo, devo investire sul, sul, sul mondo della, sul futuro, e proprio se credo, credo al metaverso, investo su qualcuno, che almeno c'è visori di questo metaverso, perché io vi ricordo che oggi, questi device, vivono attraverso gli investimenti fatti, sull'hardware, e poi dentro, come dire, sfruttano il costo, spesso vendono, pensate ad Alexa, questo qua, di Amazon, è stato venduto, ad oggi, a prezzo di costo, perché, perché il piano è, lo vendo a niente, e poi tanto, la gente ci deve comprare sopra le cose, ok, questo è un po' il, è un po' il punto, e quindi, siccome ci deve comprare sopra le cose, chi se ne frega di questo, anzi, questo è un cavallo di troia, ti metto a casa qualcosa, per cui poi se lo vuoi usare dentro, mi compri i miei pezzi, quindi questi qua, ok, sono, servono a questo, per cui il nostro visore oculus, che è di sotto, il nostro visore oculus, serve proprio per quello, io ti vendo il device, e così tu poi a stop sei obbligato a, e infatti stanno arrivando in molti, no, anche, anche quelli di tik tok, no, l'azienda che produce, che distribuisce, proprietaria di tik tok cinese, sta facendo il suo visore, qualsiasi oggi azienda ambiglia sta facendo il suo visore, ma, vedete, fare il visore della realtà virtuale, ok, significa, che credi, nel fatto che oggi, a distanza di, 40 anni, perché io le prime cose con la realtà virtuale, con cui ho giocato, erano circa 40 anni fa, 35, 30 anni fa, ho fatto le prime, forse un po' prima, le prime cose in 3D, ho sviluppato le prime cose in 3D, e negli anni non ho mai perso la passione, tuttora avete visto gli sfondi che in televisione, non sono sfondi in realtà, gli studi in 3D li faccio io, i miei personaggini avatar che continuo, con cui continuo a giocare, continuo a imparare Blender, non è che non creda nel 3D, no, io credo molto nel 3D, ma ha poco a che fare con la, non riesce a sentire la voce, però pare che gli altri sentano, ma, adesso rispondo ad alcune domande, torno indietro, rispondo, rispondo ad alcune domande, il 3D, come dire, è una cosa, intanto studiamo le basi, il 3D, vedo il 3D, ma può essere su uno schermo 2D, come un videogame, non è che sono dentro, per essere dentro ho bisogno di un visore, per avere la realtà aumentata, per la realtà virtuale immersiva, e poi bisogna distinguere da realtà aumentata, e poi, e poi, e poi, insomma, questo metaverso che mette insieme dei pezzi, praticamente, come dire, di minestrone, in realtà dentro ha degli elementi interessanti, uno dei più interessanti, secondo me, è la realtà aumentata, cioè, ovvero, è la mixed reality, ovvero realtà aumentata, con cui interagire, dove a volte, non c'è nemmeno la realtà, è solamente virtual reality, ok? Ed è secondo me, esattamente la strada in cui stanno andando a Apple, che non a caso, Tim Cook ha preso la distanza, dal meta, la parola metaverso, e credo la prenderà ancora, per un bel po', per cui, quando leggete su un articolo di giornale, metaverso, tra l'anno prossimo arriverà quello di Apple, sapete che il giornalista non è informato, scrive di cose che non conosce, perché le due parole non possono stare insieme, banalmente, per quello che ha detto Cook, così come quando si fanno sofismi, io per primo, sulla terminologia del metaverso, bisogna riferirsi a quello che dice, a quello che dice l'inventore del termine, no? Non ci sono dubbi, no? Ok? Per cui, bisogna andare da Stevenson, e dirgli, scusa Stevenson, mi dici bene se il metaverso, possono esistere più di un metaverso? E lui ha risposto, ha detto, di un metaverso ce n'è uno solo, quindi tutte le volte che sentite i metaversi, già, cioè, a meno che la parola non l'abbiano inventata loro, ma sappiamo che l'ha inventata Stevenson, Neil Stevenson, dentro Snow Crash, e lui dice che significa un'altra cosa, ah no, ma le parole si evolvono, e ho capito, si evolvono, it's fine, fino a quando questa non la chiami, l'ingotto d'ore. Ok? Quindi ci saranno delle cose buone, e so anche che ci saranno un po' di, amici meno attenti, che nell'arco dei prossimi anni, quando avrà un gran successo la realtà mixed, cioè vuol dire, io vado in giro e vedo che sopra le persone c'è scritto il loro nome, c'è scritto il loro nome, e io vedo come si chiamano, perché loro hanno deciso di dirmelo, oppure, voglio cambiare la tappezzeria di questo mio studio, e io decido che su questa realtà ci appiccico un strato di virtualità, ok? E quindi quello è parte di quello che sarà, che niente ha a che fare con la descrizione attuale o di quello che viene fatto, e viene definito metaverso, ma non solo, vi dirò di più, che questo mondo, che vi ho appena descritto, non solo sarà la realtà, ma sarà anche in mano a pochissime aziende, quelle poche che ce l'avranno fatta, chi saranno i vincitori? Non lo so, sarà il mondo meta con il suo Oculus, sarà il mondo TikTok con il suo device, sarà il mondo Apple con il suo, per ora questi qui sono i tre principali attori, anche Microsoft nel mondo professionale, e quindi anche lì quando si dice nel metaverso si potrà operare a distanza, nel metaverso si potrà fare, è certo che sì, ma anche oggi se la chiamate nel modo giusto, cioè realtà virtuale, si può utilizzare in medicina, anzi, ma nel mondo della didattica è straordinario, certo che nel mondo della didattica la realtà aumentata è straordinaria, il problema è tutto, questo è facile, il problema è la complessità che c'è dopo, cioè se ve la vende Gino Pino, la realtà virtuale, con tutto rispetto a chi si chiama Gino Pino, per davvero, cioè voglio dire, il signor X, nessuno, è evidente che ho l'agenzietta di provincia, è evidente che non sarà quella lì, perché creare contenuti in realtà virtuale, adatti per la didattica, costa un mucchio di soldi, e lo possono fare attualmente solo i big, o quelli che diventeranno big, ma devono lavorare in quel settore, non fare tre sitini storti con della roba in 3D inusabile, capite? Quindi ci sarà quel mondo, sarà lì, arriverà, ma non si chiamerà così, e nulla avrà a che fare, avrà dei nomi molto specifici, e avrà anche delle differenze specifiche, non sarà un minestrone, non ci sarà quel minestrone lì, si chiameranno in modo specifico alcune di quei pezzi del minestrone, non avranno futuro, e altri sì, ma c'è chi lo sa, è evidente che se degli improvvisati, che si sono innamorati oggi di una moda, definiscono cosa o non andrà, o non andrà il minestrone, si fa dei danni, ok? Oppure se dei furbacchioni che vogliono occuparsi, e quindi sì, ci sarà un mondo di realtà aumentata, molto diffusa, e tutto avverrà all'interno dei visori, e dei dispositivi, prendete questo come esempio, questi come esempio, dove chi li ha fatti? col cavolo che fa andare via la gente, altro che un mondo aperto, di tutti, decentralizzato, non sarà nulla del genere, tu quando avrai quel visore lì, dell'Apple, della Tencent, della Microsoft, piuttosto che di Meta, da lì dentro, non ti fa mica uscire cari amici miei, oggi Oculus che io conosco bene, perché l'ho smontato sia fisicamente, sia digitalmente, cioè come dire, ha delle, ha i suoi vincoli, che poi puoi bypassare, no? Con dei vari hack, riesci a installare delle cose extra, ma altrimenti stai dentro le loro store, e così si sarà. Bene, adesso andiamo su dalla fine, FTX è stata la consacrazione alla fine dell'acritto, per niente, Pasquale Pisapia, per niente, andiamo alle domande, per niente, perché abbiamo raggiunto circa un miliardo di persone, con quel mondaccio, raccolto circa 35 miliardi, che sono circolati, sono in un circolo, e c'è ancora molto di più da fare, molto molto di più, e siccome i ludopatici, e quelli che pensano di aver scoperto un nuovo mondo, sono ancora tanti da andare a colpire, pensate che ci sono 3 milioni di persone ogni giorno su Facebook, immaginate quanta roba bisogna andare a, ogni volta dico Facebook scende l'audience, ogni volta dico meta scende l'audience, perché? Perché ovviamente i vari filtri dicono, non ci piace che parli di queste cose, ma è automatico e non è che sono cattivi, c'è Mark dietro a schiacciare i tasti, e quindi sostanzialmente, quel mondo lì, evidentemente, è un mondo che, che no, vandrà ancora avanti, ancora tanti clienti ad andare a pescare, tre volte tanto, quindi rinascerà, oggi ho fatto un post, se sei andato a vedere, in cui parlo di, esattamente in cui parlo, di come, oggi, spesso, mi arrivano le email dicendo, guarda Marco che, grazie a te, non sono finito dentro il fossato, ma volevo chiederti, quest'altro fossato com'è? E niente, è proprio la storia di Pinocchio, con l'Odi e l'albero, torno indietro, stai mischiando, vabbè Thomas ho già risposto, e qua non ho capito perché non mi va, ah ecco quello qua, scusa quello era più avanti, è dall'inizio del video che lo dice, però io non ho ben chiaro cosa vuol dire, che non sanno di cosa parlano, vuol dire che in realtà, spiegamelo bene, siamo agli antichi, c'è una tecnologia, Nicola la dice, niente, semplicemente quando cercano di vendere mondi, come metaverse, blockchain, eccetera, gli danno dei nomi diversi, dalla realtà, perché se la chiamassero realtà virtuale, non la comprerebbe nessuno, e lo chiamano metaverse, che oggi è di moda, c'è la pubblicità in televisione, bla 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 bla, ma non esiste, torniamo indietro, VRS la giochi, esatto, hanno provato a fare i film in 3D, ma non sono anni che non ne sento più parlare, ma questo perché c'è un'altra questione, di cui non ho parlato, ma a questo punto la affrontiamo tutte, visto che siamo in diretta, che è questa, cioè la difficoltà oggettiva, che hanno le persone, a indossare dispositivi, che attualmente sono molto distopici, sono molto, ti tengono isolato, ti fanno vivere una realtà scomoda, fastidiosa, un po' stucchevole, e se lo provate, siamo in pochi, perché costa, e non è proprio un'esigenza quotidiana ad averlo, ma io ho tutti i modelli, ovviamente, provo sempre tutto, è il mio lavoro, e però, ancora oggi, un po' la qualità, la risoluzione, no? è lontanissima da quella, da quella che, dell'occhio umano, per esempio, no? che dovrebbe essere circa, adesso, qua l'avevo preso, dei belli appunti, perché non è il mio settore, quello degli occhi, dopo ve lo dico, dovrebbe essere circa, la parte grande, 576 megapixel, la parte stretta, quando metti a fuoco, circa 50, e per ora, siamo molto lontani, dai display, no? che quando riescono ad arrivare, a 4k per occhio, già sono alti, e in più, non basta semplicemente, visione davanti, visione periferica, per simulare la realtà, e non far incavolare il cervello, ma devi avere anche gli altri sensi, che devono essere coordinati, e spesso questo non avviene, e questa, distopia tra i vari sensi, fa sì che, comunque dopo un po' dia fastidio, isola, quando te lo metti, hai l'ansia di, non vedo fuori il mondo fisico, piano piano si risolveranno, alcune di queste questioni, piano piano migliorerà, ma rimarrà, ancora per tanti anni, qualcosa che faranno in pochi, il cinema 3D non è morto, continuano a esserci, ma sono pochi, perché ancora, ha degli aspetti, che ce lo rendono, poco simpatico, e poco comodo, per cui passeranno veramente tanti anni, quindi, tutto bene, se dobbiamo disegnare il futuro, disegnamolo, ci vuole competenza per disegnare, non ripetendo le cose già sentite dire, e soprattutto, bisogna, come dire, oltre a conoscere le tecnologie, bisogna anche un po' datarlo, e qui, prima di vent'anni, non avremo delle tecnologie, che ci permetteranno, di immergersi davvero, all'interno dei mondi, che ci possano far percepire, di essere veramente, in un altro contesto, cioè una realtà aumentata, e per di più, quando la diffusione, di questi device, sarà sufficiente, da creare, una sorta di, non dico metaverso, che purtroppo, non esisterà mai, per ragioni tecniche, se andate a vedere il mio video, in cui lo spiego, ma di luogo, dove si possa interagire, nella realtà virtuale, anche lì, prima che avvenga, ci vuole anche, una massa, di persone, quindi, che avrà comprato i device, e quando arriveremo lì, avranno device vecchi, come oggi, basta un cellulare, già di due anni fa, non fa una serie di cose, che fanno quelle di oggi, e quindi, non potrà interagire, nello stesso modo, insomma, lontani anni luce, fate prima, se proprio volete buttare dei soldi, a investire nel mercato immobiliare, sulla luna. Torno indietro, ciao Marco, libro di realtà aumentata, bellissimo, vedi, la realtà aumentata, Gianfranco Cusini, è davvero, il futuro in arrivo, perché è più facile, perché è, un dispositivo, può essere un telefono, qualsiasi cosa, la realtà aumentata, ce l'hai già dentro il telefono, aprila, le misure dell'Apple, quando c'è measure, misure, adesso non so in italiano, come si chiama l'app, le misure, ti fa vedere il metro, sopra la realtà, c'è già, scarica l'applicazione di Ikea, metti i mobili in casa, il futuro sarà quello che sta arrivando, e spero che Apple lo faccia bene, un bel visore, che renda questo più facile, senza dover avere un telefono davanti, capito, ma è evidente che quella, ma non è da mischiare con il metaverso, sennò andate a comprare l'oro, al posto della bottiglia, cioè, vi vendono la bottiglia, chiamandola oro, ok? visore della playstation, da una nausea, è certo, proprio esattamente, per le ragioni che ho detto, ok? L'umiltà è un valore, ricorda, io non so se lo dice in positivo o in negativo, io sono un esperto di questo settore, quindi, posso essere umile, sapendo che c'è sempre qualcuno che ne sa più di me, e non vedo l'ora di conoscerlo, però, visto che sono qui a raccontare il mio mondo, e a cercare di aiutare gli altri a capirlo, se lo dicevi in negativo, ti assicuro che io sono molto, molto umile. Poi, andiamo indietro, se è un mito, marco avanti tutto, evitiamo valore, l'avevo già detto, però il film è bello, se è una bella opera, 2D o 3D non cambia, beh, ci stanno, sono gusti, diciamo che attualmente la situazione è questa. Bene, io non vedo più commenti, sono dentro l'interfaccia di Facebook che mi fa vedere tutto questo, credo di aver detto tutto quello che volevo dire rispetto al tema dell'intervento, sono passati 38 minuti, ho esaurito anche le mie energie perché incomincio ad avere una certa età amici miei e quindi per dare tutta questa energia in poco tempo è una delle caratteristiche che mi vengono naturali e non vi voglio soprattutto annoiare di più, per cui io questo video credo di lasciarlo live, ci penso tra poco e nel frattempo faccio simulazioni di volo con Horus, mi ha cambiato la vita. Ma ci mancherebbe altro? Beh, anche perché vedi, anche mio figlio gioca con Horus, anche io, ma qui stiamo parlando, c'è gente che va a cavallo, cioè c'è gente che va a cavallo e va da dio a cavallo, da lì a pensare che il cavallo sia un mezzo di trasporto diffuso, c'è una differenza, bene, CR7 Musk, non lo so ragazzi, io so solo che tutti quelli del mondo delle cripto hanno un mucchio di soldi da spendere, perché tanti di questi prendono i vostri soldi e tanto non ve li daranno mai, perché spariranno, perché tanto chi li va a beccare che gli fanno, se non sbaglio, Bankman Fried, quello che è fallito con miliardi di soldi rubati, è ancora in giro, non è manco in galera, capito? C'è proprio un problema serio 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 serio. Va bene ragazzi, un saluto, ciao Ciro Capuano, finalmente qualcuno che dice qualcosa di sensato, grazie Enrico Favaro, grazie mille, Elisabetta Fontana, grazie degli ringraziamenti, Luisa Cellulato, giusto per dirci che siamo live, bene, 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 avete, avete, è bello, vai, vai amici, vai anzi, facciamo così, la Fiat fa pubblicità del 500, perché ci fa, non ci è, ci fa, perché sa bene, cioè sappiamo benissimo che quella roba lì è una realtà virtuale non immersiva, è una robetta in 3D, lo sappiamo, però va di moda, si cavalca, l'importante è che non ci cambiate almeno voi che mi seguite, eh? Ciao a tutti ragazzi, ciao 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 ciao, un love love love!